Con decreto del 1 ottobre 2018 pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania è stato emanato l'invito rivolto ai comuni delle aree interne della regione a manifestare l'interesse per l'attuazione dell'intervento Campania 2020, mobilità sostenibile e sicura e quindi ad individuare un'area del proprio territorio da poter destinare alla sperimentazione sul campo di prototipi di veicoli a crescente livello di automazione. L'intervento intende infatti sostenere gli investimenti infrastrutturali funzionali all'affermazione di nuovi modelli di mobilità, in particolare a favore dei comuni delle aree interne. Le linee di azione prevedono la realizzazione di servizi e soluzioni intelligenti anche attraverso strumentazioni installate in loco e la riqualificazione delle infrastrutture urbane al fine di renderle idonee allo sviluppo di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura. La data di scadenza entro cui far pervenire la documentazione è fissata per il 22 ottobre 2018.